Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video Allora, lo scopo di questo video è raggiungere un record Il primo video con più commenti al mondo Su YouTube video come questi non esistono Quindi aiutatemi a raggiungere questo obiettivo, questo record Commentatelo come vi pare Anzi, condividetelo con gli amici affinché possano arrivare un fiume di commenti E raggiungere questo obiettivo, questo scopo Vi suggerisco l'hashtag recordcommenti Quindi grazie per la partecipazione e al prossimo video E ho già detto di commentare Ok, ciao cipollini